Lui chi è? Lui vive in un mondo al di là del nostro. Le cose che noi possiamo solo immaginare, lui le fa. Vive una vita dove nulla è al di fuori della sua portata. Prende ciò che vuole, quando vuole. E come lo trovo? Non lo trovi. È lui che trova te. Che bravo. Senatore, abbiamo un problema. Ma sai che posso comprare testate nucleari a 40 milioni di dollari l'una? E che se ne prendo una dozzina mi fanno lo sconto? Cosa pensi che succederà se decide di chiederci il conto? Il mio capo ti vuole conoscere. Ti paga solo per conoscerti, Stan. Ma hai sentito parlare dell'operazione Swarfish? No. È una cifra suntuosa, 9 miliardi e mezzo di dollari. Hai idea di quanti siano? Ci infiltriamo via moto, immaginiamo il firewall, ci sediamo e aspettiamo i soldi. Quello che ci serve, Stanley, è un virus. Marco, taglia l'incentivo. Ehi, che vuoi fare? Mi hanno detto che ai migliori hackers del mondo corrono 60 minuti, sfortunatamente. Io ho bisogno di uno che ci riesca in 60 secondi. Scherzi? Yep! 45 secondi. Li farai ammazzare tutti! 20! Ma chi sei? Non quella che pensite. Più tempo, più tempo! Smanicati, Stan. 15. Magari tu mi credi un capinatore di banchi, la verità è che... sono qualcosa di peggio. Centrale, da questo momento gestitelo come inseguimento aereo. Leggetevi. 3, 2, 1... Devi morire, che peccato. No, no, aspetta, aspetta! Non tutto finisce come dovrebbe. Codice Swartfish.